Buongiorno a tutti e benvenuti all'analisi ciclica evoluta settimanale weekly su DAX e FUTSIMIB. Facciamo come al solito il nostro punto della situazione. Prima di tutto vi faccio notare che anche soltanto con semplici strumenti come Fibonacci possiamo notare come il ritracciamento si sia fermato al 61,80% da questo minimo a questo massimo e che poi appunto siamo ripartiti a salire. Vi faccio vedere anche una cosa interessante, ovvero che abbiamo ancora spazio per la chiusura del nostro T3 e in realtà T2 mensile di indice perché avremo ancora tre giorni in cui si potrebbe serenamente andare a pari o sotto questo minimo a 12.253 però nella realtà dei fatti se volessimo avere della spinta a rialzo abbiamo già una divergenza che ci permette di dire che dato che non siamo andati sotto questo minimo a 12.519 ci può essere ancora spinta per il T settimanale iniziato qui dove potrebbe essere iniziato anche il T2 mensile perché la condizione minima per la sua partenza ovvero un T settimanale laterale rialzista l'abbiamo avuta. Per cui guardando anche il controllo sull'inverso però non possiamo non accorgerci che da questo massimo quello assoluto a 13.313 essendo ormai arrivati a ben 14 giorni può essere partito tranquillamente anche un nuovo T3 inverso ovvero un trimestrale inverso e oltretutto in questo caso bisogna ricordarsi che però stiamo viaggiando a T2 inversi ovvero mensile, mensile, mensile e anche questo potrebbe essere un semplice mensile e da qui dopo un 4 tempi da questo massimo potrebbe star partendo non soltanto un T2 inverso ma persino un T3 o un T4 perché qui abbiamo 1, 2, 3 e 4 abbiamo primo T3, secondo T3 e eventuale partenza di un T4 di un semestrale inverso che richiede qualcosa di più di un T1 richiede bene un T2 inverso a rialzo ovvero a discesa di indice peraltro stiamo iniziando ad avvicinarci anche alla chiusura ciclica del primo T4 semestrale che è arrivato già a 98 giorni ha fatto già un primo T3, un primo trimestrale ed il secondo trimestrale è arrivato a 40 giorni su minimo 48 in questo momento il rischio è che se non andremo ad aggiornare lunedì o martedì ancora ai massimi non proveremo a spingere poi si inizia a scendere ancora più forte quindi potete abbucare il nostro livello dell'accumo qua a 12.332 andare sotto questo minimo e dirigerci verso questo livello verso gli 11.510 anche perché se vogliamo prenderci un'altra piccola libertà se andiamo a prenderci i massimi è vero che abbiamo una fortissima forza a rialzo ma siamo andati a farci un ritracciamento che non è ancora arrivato al 61.80 dai massimi per cui un target in questa zona qua per una discesa per la chiusura del primo T4 è auspicabile e in realtà si potrebbe anche andare a qualche cosina di più d'accordo? perché qui passa appunto il ritracciamento di cui parlavo a 11.368 quindi questi sono i due target per la chiusura del semestrale primo T4 tolgo perché poi abbiamo un pochino troppe appunto linee, strisce ed altro peraltro un'altra cosa importante da andare a verificare è se qui ritorniamo sul daily sempre del DAX da qui voglio partire un ultimo T-2 T-1 quindi con spinta e violazione di due swing per poi andare comunque a scendere perché è vero che abbiamo avuto la condizione sufficiente per la chiusura di un T settimanale con questo stesso T-3 ribassista però nella realtà difatti se torniamo al grafico candele giornaliere quindi abbiamo 6 stream in site in realtà ne abbiamo 5 e un pezzo che ci potrebbe anche stare su DAX ma che è molto 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 stretto per cui vedrei un tentativo di salita ancora di aggiornamento dei massimi per lunedì per poi valutare effettivamente una discesa o un tentativo di superamento anche soltanto dei 12.691 se volessimo proprio essere corti di spinta però come al solito questo è ciò che si vede sui grafici e si può ipotizzare lunedì già soltanto con i future capiremo che tipo di apertura vogliamo fare e poi dobbiamo andare a verificare i volumi che però come detto stanno iniziando a scendere molto e quindi a rendere molto più rischioso l'operare sui mercati e il trading passiamo al Fuzziniib ci eravamo lasciati con un'altra spinta straordinaria del sesto T-3 anche qui in violazione di determinati swing che ci dicono che sta partendo probabilmente un secondo T-1 in extremis ovvero il primo T-1 l'abbiamo fatto a 5T-3 il secondo può essere partito da qui ma attenzione può provare ancora a spingere perché dopo la chiusura del sesto T-3 che già dovremmo vedere dove arriverà arriverà magari su una di queste due medie mobili poi bisognerà vedere se riusciremo già ad andare a superare questo swing a 19.564 di nuovo e con volume per far partire il settimo T-3 dopodiché sempre dall'undi in poi vedremo se reggerà questo livello della Kumo e poi faremo tante altre considerazioni per quanto riguarda il grafico candele giornaliere che è sempre importante abbiamo visto che siamo andati quasi a farci un ritracciamento anche in questo caso del 78% quindi forza relativa molto più bassa su Fuzzimib per quanto riguarda la partenza di questo secondo T-3 trimestrale abbiamo ritracciato tanto da questi massimi siamo tornati molto vicino a questo minimo successivamente dopo essere quasi andati appunto lì abbiamo fatto il nostro rimbalzo ma anche in questo caso siamo arrivati a 1 2 3 4 5 candele per cui da qui effettivamente sta partendo un secondo T-1 che richiede però tra l'altro soltanto 6 ore eventualmente per essere definito in partenza e qui abbiamo già le nostre 6 ore per cui può provare come detto a salire ancora lunedì e a provare di nuovo ad avvicinarsi eventualmente a questi massimi a 19.896 ma poi bisogna vedere se continueremo ad avere volumi prima di andare in chiusura appunto comunque del settimanale che è già arrivato quasi a una distanza media di inverso a che punto siamo? Siamo a questo punto che da qui sicuramente è partito qualche cosa di interessante ovvero da qui siamo già arrivati a 11 barre più altre 3 siamo a 14 barre quindi abbiamo un T più 1 per ora fortemente rialzista di inverso ovvero rialzista di indice e quindi come un T più 1 da qui può essere partito tranquillamente anche una T più 3 inverso io lo segno e anche in questo caso potrebbe non essere soltanto quello partito per cui eventualmente dopo aver raggiunto la condizione minima per la partenza di un secondo T più 2 andremo in chiusura non soltanto del T più 3 trimestrale ma anche del T più 4 primo T più 4 del T più 5 annuale partito da qua del primo semestrale anche in questo caso il semestrale sarebbe già arrivato a 101 giorni non sono pochi un trimestrale un semestrale in media dura un pochino ok? se abbiamo che un mensile in media dura 8, 16, 24 32 giorni e un trimestrale ne dura 64 noi non siamo arrivati a 128 giorni ma comunque a 100 giorni ci siamo già siamo già oltre la durata minima e siamo già quasi stiamo andando verso la durata media per cui c'è la forte probabilità che dopo un'ultima spinta rialzo si inizi di nuovo a scendere con anche in questo caso target minimo 18.440 e se vogliamo andare di nuovo anche qui a utilizzare uno semplice strumento e non l'algoritmo che posso utilizzare per fare questo genere di cose vedete che già un livello importante passa qui di ritracciamento del 38% nella realtà si potrà rischiare persino di arrivare eventualmente 17.651 perché la forza relativa del Fuzzimib è più bassa rispetto all'altro d'accordo questo direi che è tutto ed è tanto anche se vogliamo dircela tutta mi sembra di aver dato tempi e prezzi interessanti anche per questo periodo come dicevo di scarsi volumi mi raccomando se operate ricordatevi che dovete essere estremamente in gamba viceversa è meglio godersi un po' di riposo e un po' di sana meritate vacanze al sole d'accordo vi auguro una splendida giornata perché la mia lo è già perché ho deciso così buona giornata a tutti a tutti